ciao io sono Elia Calò ben ritrovato al giardino sotto il naso ci troviamo qui nel barmita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio in questo video ti parlerò di come decorare facilmente un drink con della frutta insomma ti darò un po di spunti su come creare appunto una decorazione semplice ed efficace io sono un bartender professionista appassionato studioso di erbe spontanee ideatore di amarosatiro liquore pineta e vermouth pita e aiutato dal mio dito serpente andiamo a scoprire come decorare i nostri drink bene prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella ma ora addentriamoci in questo argomento che abbastanza diciamo complesso e spesso diciamo io ho deciso di registrare questo video e perché spesso vedo insomma delle decorazioni anche un po' esagerate o tra l'altro insomma mi hanno anche richiesto appunto fra i commenti di youtube come creare delle decorazioni semplici diciamo che per creare una decorazione ci sono delle regolette chiaramente sono delle regole generali poi sono sempre un po' da personalizzare con le con le dovute eccezioni chiaramente quindi quello che cercherò di darti oggi è appunto dei piccoli spunti su diciamo i criteri da utilizzare per decorare un drink prima di cominciare ti presento un po di attrezzatura facile insomma anche diciamo a costo abbastanza accessibile che puoi utilizzare anche tu per facilitarti appunto nell'avere le decorazioni a portata di mano e quindi intanto abbiamo un pelapatate e ti consiglio appunto di avere dei pelapatate con una buona impugnatura e con una lama in acciaio chiaramente sempre ben pulito e lavato questo qui è un riga limoni che in realtà può servirti o meno io ti farò vedere un utilizzo poi scegli tu questo è opzionale questo qui è un uno spelucchino curvo quindi è un coltello curvo che serve per appunto fare delle per le bucce e quant'altro anche questo opzionale una forbice per tagliare eventualmente foglioline e quant'altro di delicato questa qui è una forbice molto interessante in realtà è una forbice da sarti è una forbice zigzagata e serve appunto per ottenere un per esempio per le bucce di agrumi o per le bucce per le foglie di ananas e quant'altro serve per dargli un taglio particolare e questo è molto interessante ci servirà uno spremi agrumi eventualmente quindi un lime squeezer in questo caso se vogliamo insomma ottenere un'altra decorazione che ti farò vedere più tardi ma questo diciamo che dovrebbe essere in dotazione in ogni bar in qualche modo come decorazione chiaramente un tagliere è un coltello uno spelucchino alla madritta che è questo qui qui mi sono portato insomma una mollettina che insomma sono le trovate facilmente insomma in giro questo ci aiuterà un pochino per un'altra decorazione il tagliere ve l'ho già menzionato e come frutta o diciamo come prodotti da decorazione in questo caso e ho un po di uva bianca della menta uva nera una mela un limone un'arancia insomma poi ti darò delle altre strada facendo e per finire io qui ho un bicchiere di riferimento insomma una coppa dove ci ho messo semplicemente dell'acqua e un pochino di sciroppo di fico d'india vedi che bel colore ragazzi tra l'altro potrai vedere l'episodio di questo di come fare lo sciroppo di fico d'india che ti dà questo colore fantastico e insomma nel nella playlist qui sopra detto questo insomma ci sono vari bicchieri varie cose ne abbiamo parlato abbondantemente anche di questo cominciamo dal principio quindi che cos'è la decorazione e a che cosa serve la decorazione è un abbellimento del drink che serve per renderlo diciamo alla vista più bello ma non solo le decorazioni come alcune di quelle che ti farò vedere fra poco servono anche per completare il bagaglio aromatico del drink stesso una raccomandazione che ti faccio è quella di non esagerare mai nelle decorazioni quindi non mettere troppa roba sul bicchiere peperoni melanzane chihuahua gatti e quant'altro insomma quindi cerca di rimanere sopra per quello che è possibile e in più le decorazioni dovrebbero sempre richiamare almeno un ingrediente o l'ingrediente principale utilizzato nel drink esempio pina colada magari del cocco con una fettina di ananas esempio un daikira la fragola per esempio con la fragolina sopra per esempio chiaramente ci sono delle eccezioni e io spesso nei diciamo in quello che combiniamo noi nei bar catering e quant'altro spesso utilizziamo invece delle erbette spontanee ma io sono un po' un'eccezione per il semplice fatto che l'obiettivo nostro è quello di cercare di stimolare le persone e cercare di incuriosirle con le erbette diciamo che noi utilizziamo le erbette spontanee perché poi ci serve insomma per avere un po' più di consapevolezza delle erbe spontanee quindi io sono un po' un'eccezione in questo quindi di solito quali decorazioni si utilizza o meglio cosa si utilizza per decorare normalmente la decorazione dovrebbe essere edibile quindi si dovrebbe in qualche modo mangiare o comunque non dovrebbe avere nessun tipo di tossicità o quant'altro di solito vengono utilizzati appunto elementi vegetali come per esempio frutta quindi della frutta si può utilizzare il frutto o una parte del frutto la buccia qualsiasi insomma parte del frutto in questo caso ti farò vedere qualche piccolo esempio si possono usare anche erbe aromatiche quindi in steli foglie o quant'altro botaniche secche per esempio l'anice stellato o insomma ragazzi si può utilizzare un po' tutto diciamo quello che è del mondo vegetale con le caratteristiche che ti ho detto prima altra cosa importante è l'utilizzo di botaniche diciamo o di elementi freschi oppure di elementi disidratati e ti farò vedere anche qui un piccolo esempio ma addentriamoci un po' in alcuni esempi alcuni spunti pratici un'ultima cosa prima di dimenticarmi e le decorazioni normalmente vengono messe appunto sul bordo del bicchiere e oppure all'interno del bicchiere ci sono anche alcune eccezioni dove la decorazione viene fatta anche fuori oppure che ne so alcune bucce di agrumi vengono messe per esempio sul sul gambo questa è un'altra è un'altra opzione ok partiamo decorazione numero 1 in questo caso andrò a utilizzare la buccia di un di un'arancia piccola ma va bene l'arancia del mio albero chiaramente sempre la frutta da utilizzare sempre ben lavata ok andrò a prendere una buccia di un arancia x ne faccio magari due tre così ti faccio vedere più opzioni ok allora come stai vedendo queste sono delle bucce diciamo abbastanza irregolari quindi se vuoi fare qualcosina di carino per esempio questo può essere utilizzato nel nostro fantasy pink non solo chiameremo così questo drink o drink pink fantasy e una delle cose che si può utilizzare per esempio gli oli essenziali e qui per esempio potresti utilizzare la buccia così un po come la chiamano un po cruda rozza cioè semplicemente spremuta sul bicchiere sul bordo del bicchiere è messa dentro e oppure la possiamo decorare quando vai a fare la spremitura degli oli essenziali sulla buccia molto spesso vengono utilizzate le mani una delle cose che potresti utilizzare chiaramente che potresti attuare per essere un po più elegante per esempio una cosa che io spesso applico è quella di utilizzare le pinze al posto delle mani quindi al posto delle dita quindi con una pinza un po più stretta vai a tenere semplicemente ferma la buccia con una pinza un po più larga con un'impugnatura come puoi vedere non la prendo mai dalla parte di dietro ma sempre un po più avanti e vado a spremere gli oli essenziali sulla superficie del drink giro e continuo a spremere poi passo semplicemente sul bordo del bicchiere se voglio e la posso infilare dentro finito questa è già una decorazione ed è una decorazione un po più grezza grossolana ma avrà il suo effetto un'altra cosa tanto ragazzi questo qui è un drink da diciamo sono decorazioni giusto per farti vedere un pochino meglio altra decorazione diciamo più sempliciotta sempre rimanendo con le bucce chiaramente di qualsiasi tipo di agrume pompelmo limone, arancia quello che hai insomma per esempio posso semplicemente dargli una forma un po più regolare puoi utilizzare un coltellino oppure puoi utilizzare una forbice in questo caso andiamo a dargli una forma un po più particolare questo è un altro esempio quindi potrei andare a utilizzare per esempio la stessa cosa fare la stessa cosa qui in questo caso facciamo quell'altro esempio di cui ti parlavo prima utilizzando una mollettina quindi posso spremere gli oli essenziali sopra e poi semplicemente pinzettarla qui vediamo un po' se ce la faccio ok per esempio potrebbe essere un altro modo di decorare in questo caso il gambo così quando vanno ad impugnare avranno le mani profumate di agrumi secondo esempio terzo esempio sempre con la buccia andiamo ad utilizzare invece la forbice zigzagata mi raccomando tra l'altro questa qui la trovi nei negozi di merceria e costerà intorno a 10-15 euro insomma quindi la trovi facilmente e in questo caso andiamo a fare una decorazione sempre carina un po' diversa chiaramente tutte queste decorazioni quindi le bucce io tendo sempre a prepararmele in precedenza questo ti consente di avere una mise en place quindi quando stai preparando tutte le tue decorazioni per i drink quindi che tagli arancia, limone e tutte le varie cose e queste qui ti consiglio di preparartene in precedenza perché come stai vedendo io adesso sto andando molto lento ma comunque richiede del tempo e se abbiamo già preparato il drink quando prepariamo la decorazione il drink si potrebbe anacquare se c'è del ghiaccio o comunque riscaldare come in questo caso questa ripeto è un'altra decorazione molto carina ok? può essere spremuta dentro può essere messa in un bicchiere con il ghiaccio insomma scegli tu qual è l'utilizzo che preferisci andiamo avanti un'altra delle cose che si possono fare è per esempio ok questa la poggiamo qui un'altra delle cose che si possono fare è te la faccio vedere subito andiamo a dare una forma un po' più regolare alla buccia per renderla un po' più carina e dopo di che magari gli diamo una forma un po' appuntita ok e andiamo a fargli un taglio centrale come in questo caso quindi ho semplicemente fatto un taglio centrale questo ci consentirà un po' più lungo così questo ci consentirà di fare un sempre di spremere magari gli oli essenziali sopra ma di poter piazzare in questo caso qui sopra la nostra buccia eccoci qua per esempio questo è un buon utilizzo potrei aggiungerci una cosa in più ossia un per esempio un chicco questa la togliamo se no poi è troppa roba potrei aggiungerci un chicco d'uva per esempio altra cosa che stavo quasi per dimenticare è che conviene sempre giocare a con una contrasta con un contrasto di cromia ossia cercate di giocare sempre con i colori un'altra che ne so questo è diciamo con le agrumi abbiamo più o meno terminato poi puoi utilizzare in un bicchiere come questo qui ad esempio questo adesso cominciamo a togliere un po' di roba in un bicchiere come questo per esempio puoi utilizzare l'arancia fresca oppure potresti utilizzare come ti dicevo prima potresti utilizzare anche degli agrumi disidratati perché no? ok in questo caso ho preso un chicco d'uva semplice e andrò a fargli un taglio nella parte sottostante così in modo tale da farlo aderire sulla parte di sopra del bicchiere e sfrutterò il foro naturale che il chicco dell'uva ha e andrò a metterci per esempio una roba del genere vado a metterci per esempio un germoglio di menta eccoci qua quindi potrei semplicemente sostituire questo per esempio a questo ed eccoci qua ed è un'altra decorazione molto semplice ma molto efficace passiamo al limone ok in questo caso ho un limone verde ancora ma perché l'ho raccolto dal mio albero e andrò a fare mezzo limone a spirale l'altro mezzo invece andremo a fare un'altra cosetta molto simpatica utilizzando il riga limoni andrò a fare appunto una sorta di striscia diciamo di buccia di limone questo va semplicemente quindi andrò parto da qui come puoi vedere questo funziona molto bene con gli agrumi che sono molto freschi se sono un po' ammosciati faremo un po' di fatica cercherò di sfruttare tutta la buccia disponibile spero che si veda abbastanza bene ok come puoi vedere sto cercando di andare abbastanza regolare questo dovrebbe essere più che sufficiente ok poi posso farla più o meno lunga e anche qui un consiglio che ti do è utilizzare gli agrumi a temperatura ambiente perché quando sono a temperatura ambiente la buccia soprattutto a parte che rilascia maggiormente gli oli essenziali ma è anche più lavorabile quindi in questo caso andrò a fare una spirale posso anche utilizzare per esempio un bastoncino o il bar spoon stesso per farmi la mia bella spirale così e per esempio posso semplicemente poggiarla sul bordo del bicchiere quindi questa la togliamo ok e anche qui abbiamo una bella decorazione semplice ma di impatto può andare dentro insomma la possiamo poggiare fuori però è una bella decorazione con la restante metà parte di limone invece andiamo a fare un'altra cosetta molto simpatica quindi andrò a tagliare il limone a metà ti ricordi l'episodio in cui parlo di come decorare un come tagliare gli agrumi no? si se te lo sei perso vattelo a rivedere alla fine di questo andrò a spremere utilizzando il lime squeezer la mia metà parte di limone sto facendo un po' di caos ok quindi avrò ottenuto da questo metà limone o lime molto meglio il lime anche se ce l'hai a disposizione avrò ottenuto due ingredienti ossia del succo di limone ma allo stesso tempo avrò ottenuto anche un una sorta di piattino che adesso ti faccio vedere come utilizzare ok in questo caso ho ottenuto una sorta di piattino e questo diciamo che si è molto bello da poggiare su un drink pieno di ghiaccio e da poggiare qui sopra questo qui come puoi vedere è una sorta di piattino quindi sfruttando il contrasto cromatico quindi per esempio sul verde ci possiamo mettere qualcosina di colore diverso che ne so ci potrebbe stare come abbiamo fatto prima un chicco d'uva con un piccolo rametto di menta per esempio oppure possiamo utilizzare del ok quindi andrò a mettere un rametto di menta così così quindi in questo caso posso per esempio utilizzare per andare un po' a contrasto cromatico posso utilizzare qui vi posso aiutare con con la punta di un coltello con uno stuzzicadente insomma come preferisci quindi posso mettere uno di questi posso mettere un fiorellino di malva secco insomma questo è poi spazio puro alla tua fantasia motivo per il quale io sono profondamente innamorato del bar perché non ci si annoia mai ok quindi questo qui una volta che abbiamo completato il nostro drink possiamo semplicemente prenderlo e poggiarlo sul nostro drink così ok ultimo frutto andiamo a fare un piccolo spicchio di mela ok molto velocemente chiaramente la mela ha un unico problema tende ad ossidarsi velocemente quindi che cosa andrò a fare io andrò a fare dei taglietti provo a farteli vedere da qua quindi per questo abbiamo bisogno di un coltello alla maliscia appuntito e in questo caso io ho effettuato dei tagli abbastanza profondi e ho creato dei tagli ecco questo è un esempio quindi ho tagliato di qua e di qua e questo l'ho ripetuto per quattro volte creando questo effetto qui in questo caso ti consiglio per la mela andremo semplicemente a fare un taglio in questo modo in modo da poterlo poggiare sul nostro drink in questo modo così e abbiamo ottenuto la nostra decorazione mi raccomando per la mela tenderà ad ossidarsi abbastanza facilmente quindi il succo di limone che abbiamo ottenuto prima basta mettetelo un pochino sopra oppure utilizza il chiarofrutta al bar concludo ti saluto se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che potresti approfondire mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio non resta altro che dirci ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao 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 ciao